ciao alberto ma vediamo se mi prende l'ansia da registrazione questa la chitarra è natarco un pezzo di ligno insomma con questa ci andavo a lezione da grossman quando ero un ragazzo quando ero giovane vabbè vediamo se come attacco di solito quando ero giovane sbaglio vabbè vediamo grazie a tutti 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 grazie a tutti